Tadà! Eccomi di nuovo questa volta per fare un fantastico cocktail per i miei amici per capodanno. Quindi un coli campari, un po' di arancia, ovviamente non esageriamo perché non bisogna troppo bere al colico. Shakeriamo. Questa qua, questo di qua. Pensavate che cocktail non sapessi fare. Voilà! Cocktail pronto per i miei amici, ma io ancora non vi ho presentato la mia di amica. Venite com'è, vediamo. Voilà! E adesso che vi presento una mia carissima amica. Tadà! Cosa ne dite? Mi basterà per quest'anno? Non lo so se mi basterà questa bottiglia, ma... Doppia compagnia, ragazzi! Quindi, buon 2011 a tutti! Ciao! A presto e all'anno prossimo! E divertitevi, mi raccomando, ma non bevete troppo! A presto e all'anno prossimo! A presto e all'anno prossimo! A presto e all'anno prossimo! A presto e all'anno prossimo!